A Cortina, l'inverno generoso di neve favorisce le nostre massime manifestazioni sportive, tra cui la mondiale di Bob. Partono gli svizzeri, Feyerabend e Wasser. Tra gli alti muri di neve che fanno abbagliante e vertiginosa la velocità, arrotano il pericolo. Si divincolano magistralmente dal brivido delle curve. Gli americani si impegneranno, se non a superare gli svizzeri, a mantenere quel secondo posto che la regolarità delle loro discese ha promesso fin dalle prove precedenti. È il turno dei francesi. La grande curva a esse, il movetà della gara, non li lascerà passare. Un errore impercettibile e la pista prende il sopravvento. A Corre la slitta della Croce Rossa. Giace il Bob sbalzato dal percorso. Viene portato via il ferito con la gamba tra le stecchie. Gli italiani guadagneranno una posizione in classifica dominando la loro diretta rivale, la Norvegia. Gilarduzzi conquisterà il quarto posto. Gli austriaci hanno ormai fatto in più, ma sul rettilineo di arrivo una nube vela per un attimo l'incidente. Fortunatamente sono incolumi, potranno terminare la gara. Il presidente della federazione del Bob si congratula con lo svizzero vincitore. I nostri hanno ragione di congratularsi a vicenda.